Assessore Sulpizio, lavori per le vie di Pescara, un impegno anche finanziario importante per l'amministrazione comunale? Sì, diciamo che oggi abbiamo voluto fare questa conferenza stampa anche per far capire che in questi mesi il Comune Pescara non è stato chiuso, il Comune di Pescara è stato aperto. Noi abbiamo sempre garantito in questo caso come servizio manutenzione attività di manutentive importanti, intervenendo prontamente in tutte quelle situazioni di necessità e soprattutto anche dalla parte amministrativa sono state espletate tutte le varie attività per arrivare oggi, che siamo diciamo anche in una fase di apertura, per dire siamo pronti per iniziare con i lavori di manutenzione delle attere cittadine, che è un conto fare manutenzione stradale con la città piena e un conto fare manutenzione con una città come è ancora oggi, che anche diciamo fra virgolette con poche macchine in giro. Oggi quindi annunciamo queste iniziative, sono risorse come dicevate voi importanti, siamo nell'orbita di 500 mila euro che prevederanno diverse fasi, sia degli interventi sulla città di Pescara con cui andremo a coprire tutte queste buche che non ci siamo i primi a rendersene conto che non sono più tollerabili, quindi provvedendo anche al ripristino di queste buche, con risorse anche a 120 mila euro per la segnaletica stradale, segnaletica stradale che assume anche un ruolo fondamentale in tema di sicurezza. Quando partiranno i lavori? I lavori già dalla prossima settimana? Alcuni già sono partiti, avrete visto che la scorsa settimana abbiamo sistemato anche su Via Enzo Ferrari quell'imbuto che generava tanto traffico, che i cittadini ci avevano richiesto a tanta alta voce, l'abbiamo già anticipato quei lavori proprio in un momento in cui Pescara era abbastanza vuota proprio per cagionare meno disturbi. Già dalla prossima settimana già inizieranno i primi lavori, quindi avremo le prime squadre che lavoreranno.